La prossima volta compra qualcosa, eh? La prossima. Per arrivare dritto al punto, vorrei che consegnasse a me quella fanciulla, adesso. Sì, puoi scordartelo, Ramon. Lei sta bene dove sta, con me. Signor Kennedy, signor Kennedy, che cavaliere. Tuttavia, vede, la ragazza ci è necessaria. Usando lei come fonte primaria, gli Stati Uniti e poi il mondo intero strariperà della sua grazia. Questa è la volontà del mio padrone, l'onnipotente, Lord Sadler. Allora, obbedirà agli ordini? Vero? Mai! Beh, l'hai sentita. Ma che disdetta. Accertatevi che l'ospite si senta a casa, ora che ha scelto di morire. Leon. Stammi vicino. Matadlo! Sì. 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 Matadlo! Grazie a tutti. 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 Tutto ok? a tutti. a tutti. Wow, guarda. a tutti. 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 a tutti.